7.80, una corsa davvero molto interessante che sta per andare in onda, dunque va in partenza la terza corsa di Palermo. 7.80, una corsa davvero molto interessante che sta per andare in onda, dunque va in partenza la terza corsa di Palermo. 7.80, una corsa di Palomitas che però sbaglia ed è dunque Lester Pigott che ha chiuso favorito a quota di 2.16 ad assumere il comando con tale cintura in sediolo nei confronti di Orgogliosa OP, più indietro in coda in questo momento Galadram davanti a lui Palomitas, mentre dietro il Battistrada Lester Pigott e Orgogliosa OP in terza posizione c'è Gianco NP, mentre non ha sin qui commesso errori nuvolari di Stra che si presenta di fuori all'Ester Pigott. 43.3 sul mio cronometro per i primi 600 metri con Lester Pigott, Battistrada su Orgogliosa OP, Gianco NP, Palomitas, mentre c'è l'errore di Placidas che evidentemente attraversa un periodo negativo. si continua a pedalare in avanti con Lester Pigott messo sotto pressione da Nuvolari di Stra a seguire Orgogliosa OP, Gianco NP e Palomitas. i cavalli affrontano la retta di fronte, mancano circa 600 metri al traguardo, 1.13 e qualcosina per il primo chilometro con Nuvolari di Stra oggi sin qui molto serio e tranquillo che prende la miglia sull'Ester Pigott che accusa la fatica e viene attaccato a sua volta da Orgogliosa OP che prova adesso a presentarsi minacciosa su Nuvolari di Stra in sede alla quale sta giocando di fino Giuseppe Porso Junior per fargli passare in denne l'ultima curva, si appesantisce un po' l'andatura di Nuvolari di Stra però adesso la curva è finita, c'è solo la retta conclusiva che sicuramente è più favorevole per la sua meccanica ed infatti adesso stacca, stacca e va a vincere alla grande Nuvolari di Stra nei confronti di Orgogliosa OP e di Lester Pigott, dunque anche in categoria D, non sbagliando Nuvolari di Stra ha colpito, ha colpito alla grande i colori sono quelli del signor Antonino Pecoraro, Antonino Pampilloni è il trainer, Giuseppe Porso Junior il guidatore sul mio cronometro 1.57 quindi 1.13 è un baffo grosso modo, niente da fare per Orgogliosa OP e Lester Pigott alla fine ha salvato appena il terzo posto in numeri 3, 4, 2 l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della terza corsa di Palermo